A distanza di otto mesi dall'ultimo appello, nulla è cambiato. Per Moreno Colonna, l'ex gommista di 58 anni, affetto da sclerosi multipla, è costretto a rimanere chiuso nella sua abitazione Ater, in via Nora a Pescara, per colpa di un edificio non a norma. Moreno Colonna, da cinque anni su una sedia a rotelle per colpa della sua malattia, è costretto a trascorrere le sue giornate in casa, in quanto il suo alloggio popolare, situato al secondo piano, è sprovvisto di un ascensore e di una rampa d'accesso. Le uniche volte che è potuto uscire di casa solo per effettuare le visite mediche all'ospedale di Pescara, uscite a pagamento, sottolinea Moreno, in quanto l'ambulanza che viene a prelevarlo ha un costo. Ti senti detenuto in casa? Sì, effettivamente la mia situazione è questa, non posso fare niente, vengono a fare le fisioterapie a casa, però oltre a quello, quando devo andare a fare qualche visita, devo chiamare l'ambulanza, devo stare sempre al soggetto di loro, niente, mi sento una persona che non serve a niente in pratica, perché proprio sono molto depresso e ho sempre quella speranza che qualcosa può andare nel verso giusto, però più passa il tempo e più le mie speranze si affievoliscono sempre di più. A raccogliere l'inspirato appello di Moreno, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del consigliere regionale, Domenico Pettinari. Il caso di Moreno è un caso che va assolutamente risolto, io purtroppo non ho potere decisionale, qui deve intervenire immediatamente il sindaco per consentire la mobilità e l'Ater e quindi la regione Abruzzo, questa è un'abitazione di regione Abruzzo, quindi cosa si potrebbe e si dovrebbe fare? Il sindaco dovrebbe disporre la mobilità di Moreno in un alloggio situato a piano terra, l'Ater dovrebbe consentire naturalmente di mettere a disposizione questo alloggio, ce ne sono tanti di alloggi a piano terra occupati da abusivi delinquenti, quindi basta cacciare un delinquente da un alloggio popolare a piano terra e metterci Moreno. La moglie, la signora Gabriella, che con grande amore accudisce il marito, ci fa notare come sia impossibile per Moreno girare nell'abitazione con la sua carrozzella in quanto gli spazi sono davvero esigui, diventa un'impresa accedere addirittura nel bagno per via della porta troppo stretta.